3 4 è bravo anche perché non capisco perché non la fa qua cazzo come cazzo vai a girare poi adesso è incastrata Luigi qua però non qua, guarda dove sei passato è più basso lì no? ho capito ma poi non giri più cazzo se tu la fai qua anche perché è accompagnato se la fai lì riesci a chiuderla un pezzo se la fai qui non la chiudi più devi andare giù, devi fare come il zio seme che fa l'otto e torna indietro un pochettino a me via quel birillo lì no? no vabbè non lo so è tanto il tronco al limite schiaccia il limite sembra facile e da poter sfruttare quello la gamba lunga se ero io ero già in terra da un'ora dovresti riuscire a picchiare contro l'albero o l'albero o il ferro tocchi il pelino come dice quella là? grinta! un attimo gas! no no qua 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 sembra facile mi fanno un secondo quando arrivi lì provo a puntare un ferro che ti aiuta o picchia con l'uomo davanti sul tronco e te la tiri in modo che dopo te la slizza qua adesso mi metto qua io o mi butta giù mi butta ma che va devi butti giù bravo tocca il ferro e salta fuori però anche tu il peso è di qua il peso è di là quando salti perché vedi che anche lui l'ha portato giù di qua dopo tu gamba lunga appoggiata dove ci sei andato dai un po' più in qua bravo così usare questo veramente eh oh non è che per forza uno è così semplice senti metto lì un sasso ci sta ci sta il contrario il contrario parti il contrario? si vai vuoi fare la bionda di qua? no basta ormai l'hai fatta contrario contrario Andrea secondo me è più facile chi è che c'è arrivato? ti scarica la bionda allora ditelo però porca loca rilassare la bionda di qua rilassare la bionda di qua rilassare la bionda di qua troppo tardi è sicuro stavolta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti